ok come potete vedere dal grafico quasi il 50% di voi non è iscritto quindi iscrivetevi ragazzi ok questa è bella si era baggiato il programma e mi stava registrando lo schermo ma in un altro senso che stava registrando il gesto che non so è ambiguo comunque due minuti non avevamo visto di fredd nel funcione forse l'ultimo escludendo le mod cioè l'ultimo canon effettivamente c'è canon nintendo che l'hanno fatto da quanto i macchini di giamatti e i castori di carina infatti cioè avete visto che non lo sento se non sapete che se non è canon ma vero non sapete che fare e basta comunque oggi andremo a fare l'op6 easy normal e altro l'ultima volta a farlo di si perchè cioè con le mod magari saranno più difficili però è veramente noioso a fare l'ultima volta e anche normal a volte se bisogna fare bene tipo questa che vabbè iniziamo colissimo che non ho voglia di perdere tempo mi ha già fatto perdere 30 minuti ah no c'era da fare il dialogo vabbè vi dico praticamente c'è una nuova ragazza che sta cercando il suo amore una sfida tra gentiluomini deciderà dove mi ha preso gassare il suo bellissimo cuore era così si può aiutare il dialogo 3, 2, 1, game! 3, 2, game! 3, 1, game! 3, 1, game! 4, game! Grazie a tutti. 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 per... 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 ok... per... per... ... ... ... per... 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 per...